Domani è l'inaugurazione dell'aeroporto? Sì, è importantissimo perché parliamo di un'attività che possa portare veramente tanti risultati alla nostra comunità, non solo dal punto di vista economico ma anche commerciale. Sapete benissimo che domani mattina alle 11.30 avremo questa inaugurazione, che io dico Salerno apre le porte al mondo, quindi riteniamoci veramente soddisfatti. Ed era anche giusto che Salerno poteva avere il suo aeroporto rispetto ad una regione che con 6 milioni di abitanti era giusto che eravamo presenti anche noi nell'ambito di quello che può riguardare poi lo sviluppo soprattutto dell'intera provincia ma di tutto quello che possa riguardare la regione campana.